Ma quanto è bella! È bellissima! È bella, è proprio bella, sai. Senti, raccontami un po', ma ad oggi com'è la situazione tra te e Federica? No, ad oggi è tutto a posto. È un casino? No, 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 no. No, no, siamo stati in Talandia e abbiamo trascosto il viaggio più bello della nostra vita. Ah, bello, allora siete tornati di nuovo innamoratissimi. Tanto lo siete sempre stati, giusto? Ma perché tu dici che lei vuole delle certezze che tu non le puoi dare? No, delle certezze che io non gli posso dare è che dopo tanti anni insieme ci sono dei momenti un po' così. Si vuole sposare? No, 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 no. Dove uno cerca di fare un passo, però molte volte uno ci pensa, no? Perché non è pronto, non è il momento giusto. Lei si sente ancora piccola, io nello stesso momento non ho quella stabilità che a lei serve. È come se poi si crea... Ma io capisco, però voglio aggiungere un tassello per la Fiorda che ci sta ascoltando. Ah, ecco. E anche per tutti i nostri amici a casa. Tu devi sapere, cara Fiorda, che il nostro Ciro vive ancora con mamma. E anche per tutti i nostri amici a casa.